Il Chieti rende elettrizzante questo finale di stagione la formazione di Donato Ronci e l'unica in questo campionato ad aver fermato con un doppio pareggio andata in ritorno la capolista. L'1-1 dell'Elvia Recina alimenta le speranze di rimonta del Fano ma la maceratese vista contro il Chieti squadra sicuramente in grande forma ai numeri per raggiungere il traguardo della Lega Pro. 4-3-3 per i padroni di casa, 3-4-3 per il Chieti con Del Grosso con il compito di spingere a destra. Gara vivace, spettacolo assicurato per il pubblico biancorosso che ha affollato le gradinate. Al quarto esposito ruba palla al limite dell'area facendo correre qualche brivido a Garaffoni e compagni. All'undicesimo Saitta vola sulla sua sinistra per disinnescare un tiro di Orlando mentre 60 secondi dopo è D'Antoni che salterà l'infrasettimanale di Matelica per squalifica con un pallonetto a chiamare in causa Placidi. Cresce di tono la maceratese che vuole trovare quanto prima la via della rete, ci prova al ventiduesimo croce dalla lunga gittata, l'estremo nero-verde devia oltre il fondo. E' un buon momento per i padroni di casa che da alcuni minuti hanno alzato ritmo e baricentro. Cuco si dà un gran da fare ma sbaglia qualche pallone di troppo. Il finale di tempo si infiamma, al quarantaduesimo arriva il gol di Ferrimarini che sblocca il risultato. L'attaccante è bravo a toccare di testa il pallone scagliato dalla sinistra. Nulla da fare per Placidi. Il Chieti è vivo e al quarantaquattresimo esposito si guadagna il calcio di rigore che potrebbe consentire alla sua squadra di riacciuffare subito la capolista. Dal dischetto va lo stesso esposito, Saitta intuisce e respinge la massima punizione. Il secondo tempo inizia subito con una grande occasione capitata sui piedi di Cuco che da due passi manca con il sinistro il bersaglio. Sarebbe stata la rete che avrebbe potuto chiudere la partita che invece resta viva grazie ad un Chieti ben messo in campo da Ronci con Prinari pronto a supportare in fase offensiva il trio d'attacco. Al quattordicesimo Cuco viene lanciato in profondità ma il controllo è difettoso. Dopo cinque minuti arriva il pareggio degli abruzzesi al termine di un'azione insistita che vede prima un salvataggio sulla linea e poi la rete di Broso che corre a festeggiare sotto la postazione dei propri sostenitori. Mister Maggi decide un doppio cambio al ventitresimo fuori Ferrimarini e Dantoni dentro Villanova e Bartolini anche se sugli spalti molti avevano pensato che a lasciare il rettangolo verde sarebbe stato Cuco. Al venticinquesimo Di Pietro rifila una gomitata in piena area a Bartolini cartellino rosso per il giocatore nero verde e rigore ineccepibile per i padroni di casa dagli undici metri va Cuco che spara incredibilmente alto. Con l'uomo in meno il Chieti non modifica il proprio assetto, la maceratese si piazza con un 4-4-2 con l'obiettivo di mettere palloni in avanti per le torri biancorosse. Ci prova dei grazi alla mezz'ora ma la rasoiata termina sul fondo mentre al quarantesimo la punizione di Croce finisce di un niente lontana dal palo alla sinistra di Placidi. Termina 1-1 ma per la maceratese a parte qualche fischio ingeneroso solo applausi dalla stragrande maggioranza dei tifosi di casa ora più che mai vicini alla squadra nella cavalcata finale verso la Lega Pro.